E' un vero imbecille. E' molto sexy, però. Si sa, no? L'amicizia tra uomo e donna può essere un po' complicata. Tette al naturale o push-up? E' per ballare o è per... Coglione. Ho una novità. Anch'io. Una borsa di studio per Harvard. Beh, comunque vieni anche tu, no? La tua di novità. Perché non ti ammazzi subito? Te le do io le pasticche. Fatti sentire, ok? Ci sposiamo! Congratulazioni. Se non fosse stato per te, non sarebbe successo. Mi hai detto tu di venire qui. Grazie. E' fantastico averti come amica. Se qualcosa nella mia vita va storto, mi basta guardare la tua e tutto si ridimensiona. Non era un'amicizia come le altre. Eravamo inseparabili. Ma costantemente separati. Ho capito che non importa dove sei o con chi sei resterai per sempre sinceramente profondamente nel mio cuore. Stai molto meglio così, Rosie. E dai! Tu sottotitolo di studio per la mia vita. Tu sottotitolo di studio per la mia vita. E quindi è brava un'amicizia. E dai!